Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it quest'oggi parliamo della grafica in Adobe Premiere Pro continua infatti il corso introduttivo a Premiere Pro siamo partiti ormai un anno fa con le prime lezioni stiamo quasi arrivando alla conclusione tra qualche lezione parleremo ovviamente dell'export perché dopo tanto lavoro uno si domanda come faccio ad esportare le mie creazioni su un file condividerlo con gli amici bene tra qualche lezione parleremo dell'export come detto prima però oggi parliamo della grafica quindi come inserire titoli semplici forme geometriche e parleremo più avanti anche di come lavorare con la grafica essenziale quindi con una serie di chiamiamoli template preset già pronti per essere utilizzati che possiamo ovviamente modificare a piacimento come vogliamo noi e infine parleremo anche della possibilità ma la vedremo rapidamente di creare i nostri propri template in After Effects esportarli e importarli direttamente nei nostri progetti Premiere questo è quello di cui parleremo vi ricordo www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'indice con tutti gli argomenti del corso c'è anche il corso di After Effects se volete imparare qualcosina di più su quel software ovviamente qualcosa di introduttivo quindi c'è un corso proprio per chi non ha mai messo mano ad After Effects quindi se siete già bravi forse quello non è il corso che fa per voi ad ogni modo iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere anche i prossimi corsi i prossimi tutorial c'è la pagina Facebook per tutte le informazioni Fabio Ambrosi venite lì e mettete un like bene parliamo di grafica rapidamente vediamo come inserire un testo in Adobe Premiere Pro innanzitutto selezioniamo la timeline prima cosa da fare seconda cosa da fare andiamo nel menu grafica andiamo alla voce nuovo livello e selezioniamo la voce testo abbiamo inserito un nuovo livello testo in Adobe Premiere come potete vedere appare qui nel monitor di preview del monitor programma e in timeline c'è un nuovo elemento appunto un elemento grafica che al suo interno contiene il livello del testo ricordo lo vedremo tra un istante che tutto quello che facciamo con la grafica è strettamente legato al concetto di livelli a mano a mano che aggiungiamo cose vengono aggiunti dei livelli grafici ne parliamo tra un secondo se vogliamo modificare le proprietà di questo testo che abbiamo appena inserito come ripeto ormai da tantissimi tutorial fin da quando abbiamo parlato degli effetti video in Adobe Premiere Pro tutte le opzioni degli elementi che stiamo modificando che stiamo lavorando sono nel pannello controllo effetti ok? quindi in questo pannello controllo effetti dove eravamo soliti abituati ad andare per modificare gli effetti per cambiare la posizione, la scala eccetera eccetera c'è una nuova sezione chiamata grafica e qui come potete vedere compare un livello ecco perché appunto parlavamo di livelli livello testo io espando il livello testo e ho le proprietà che posso modificare per cambiare appunto per esempio il font del testo che sto utilizzando piuttosto che la dimensione del testo che sto inserendo ho anche il colore per esempio e tante altre opzioni come per esempio l'ombra, il bordo e tante altre proprietà molto molto interessanti ma ipotizziamo per esempio che io voglio modificare e inserire un testo come devo fare? perché io qui ho inserito l'elemento testo bene, guardate qui in basso c'è la sezione dei tools c'è il pannellino degli strumenti di Adobe Premiere Pro c'è lo strumento testo ci clicco sopra posso adesso a questo punto selezionare il testo che voglio cancellare per esempio e scrivere un testo www.fabioambrosi.it eccoci qua torno nella modalità ovviamente selezione è importante fare questo prima anche di continuare a modificare i parametri posso per esempio cambiare ancora una volta il colore vedete posso customizzare tutto come voglio posso aggiungere un bordo ecco giocate con questi parametri se siete già abituati a lavorare con software come Word siete sicuramente molto bravi a capire a cosa servono nel prossimo video tutorial vedremo come inserire semplici forme geometriche in Adobe Premiere Pro e poi nell'ultima lezione dedicata appunto alla grafica parleremo dei motion template www.fabioambrosi.it per tutte le informazioni iscrivetevi a questo canale YouTube se vi fa piacere c'è anche la pagina Facebook mettete un like e ci sentiamo lì al prossimo tutorial, ciao!